...mi devi mettere lì, ma non posso... ...è, ehi, 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 faccio malacchi! ...ehi, ehi, pazza? ...è la saglia... ...levate lì, regà, levate lì, levate, che ti fai male, eh! ...piano, piano, piano, non troppo, dai fermo! ...dai... ...oh! ...oh! ...oh, oh, oh! ...cacca, cacca, cacca! ...cacca, cacca, cacca! ...cacca, cacca, cacca! ...cacca! ...cacca, cacca, cacca! ...cacca, cacca! ...una, zapa, una... ...la protesta perché siamo i desaparecidos d'Italia. Questa ha chiuso una grossa realtà, come l'Irisbus in Valle Ufita, a Grotta Minarda, a Flumeri, e dopo un anno, un anno e mezzo di battaglia questi poveri operai non sono mai riusciti a farsi sentire. Hanno chiesto più volte di essere ricevuti dal Presidente Napolitano, ma senza nessun risultato positivo. ...no, no, 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 no! ...lui, no... ...porche quando lo sapevo quando ero prima troppo tampe... ...chette per insomma... ...non lo siete bravi... ...non te le siete bravissimi... ...con te le siete bravissimi per loro! ...non mi sono la loro! ...non sopra! ...questo, vai con lui! ...é! ...è, esatto! ...è! Oh, e non ti facci male, non facci male, non facci male! ...cocché ti facci male... Grazie a tutti